Il giovane giornalista che a me piace da morire e sono contento quella volta che l'ho scoperto così dico questo è un ragazzo con i cosiddetti finferri li chiamo io e che è Francesco Amodeo giornalista e scrittore e prima voglio farvi vedere proprio diciamo che questo è l'ultimo libro parleremo sentiremo di che cosa si tratta questo è l'ultimo libro poi voglio farvi vedere adesso che cosa aveva previsto il qui portento il mio amico Francesco Amodeo perché per conto mio aveva previsto tutto per 2019 2021 sono passati quasi due anni Francesco Amodeo disse quanto segue ascoltiamolo questo mio video vuole essere un vero e proprio appello agli italiani dobbiamo evitare nella maniera più assoluta che si consumi nel silenzio generale il secondo golpe tecnico ai danni dell'Italia il cartello finanziario ha già fatto partire l'operazione Mario Draghi che identica nelle modalità e nelle finalità a quella che fu l'operazione Monti del 2011 che causò danni irreparabili all'Italia tutto avvenne nel silenzio generale dobbiamo evitare che questa cosa possa accadere per la seconda volta ricordiamoci che l'oro il cartello finanziario opera seguendo sempre lo stesso format sempre lo stesso copione quindi la prima fase è la regola della shock economy ossia creare un evento che abbia un forte impatto sulla popolazione quasi sempre si tratta di inasprire le crisi economiche ricorderemo tutte le frasi di Mario Monti quando diceva abbiamo bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti questo nel 2019 o avevi la sfera di cristallo davanti come mai questo pensiero che si è verificato si è verificato è stata strumentalizzata ovviamente la pandemia che nessuno pensi che io sia tanto folle da pensare che abbiano creato la pandemia per portare Draghi al governo però la shock economy prevede di approfittare di uno stato di shock politico economico sociale o sanitario del paese per portare avanti un'agenda che era già scritta quindi hanno sempre bisogno di un episodio del genere per questo quando è scoppiata la pandemia e ho capito che avrebbero portato avanti gli altri step della loro agenda infatti chiamai Radio Radio e dissi addirittura pillola radio del 31 agosto 2020 dissi il governo Conte cadrà e a farlo cadere sarà Matteo Renzi ovviamente queste che qualcuno chiama previsioni in realtà sono analisi politiche io nel libro La Matrix europea nel 2014 rivisto poi nel 2019 già parlavo del gruppo dei 30 della Goldman Sachs e di come avevano messo in agenda quello di rifare in Italia quello che era già accaduto nel 1992 a seguire quindi semplicemente una seconda fase ovviamente i personaggi che ruotano all'interno di queste organizzazioni sono organizzazioni ufficiali quindi si sa chi sono basta seguire un po' con i loro passi capire un po' come si stanno organizzando per capire cosa implementeranno poi al governo dei paesi e questo lo vedremo con l'ultimo report di dicembre 2020 lo vediamo nel prossimo intervento di Mario Draghi dove hanno già scritto il programma che dovrà seguire l'Italia un programma di macelleria sociale di distruzione delle piccole e medie imprese di un report scritto dal gruppo dei 30 a dicembre 2020 questo report si intitola rilancio e ristrutturazione del settore aziendale post covid ecco lo vediamo progettazione di interventi di politica pubblica ora il gruppo dei 30 è formato dai 30 banchieri più importanti del mondo già il fatto che 30 banchieri debbano riunirsi per decidere le politiche pubbliche dei paesi è già inaccettabile noi quando siamo entrati nell'Unione Europea ci hanno fatto firmare che i governi non potevano assolutamente mettere bocca nelle politiche delle banche centrali e ora sono i banchieri centrali che vengono a mettere bocca nelle politiche pubbliche la cosa inaccettabile è che nel gruppo dei 30 noi abbiamo personaggi come Jacob Frankel della GP Morgan Chase la banca che è stata accusata della crisi dei mutui subprime che ha portato alla recessione nel 2008 quella che ha fatto perdere milioni di posti di lavoro e a causa dei mutui subprime milioni di persone che hanno perso la casa questo personaggio che nonostante poi sia uno dei banchieri più ricchi del mondo ha dovuto rinunciare al secondo incarico di governatore della Banca d'Israele perché è stato beccato a rubare una borsa in aeroporto per farvi capire chi sono le persone che ci vengono a suggerire quali sono le politiche che dobbiamo portare avanti ma la cosa triste e assurda è che noi non dobbiamo accettare è che da una parte questi banchieri si siedono a porte chiuse per decidere le politiche che interessano a loro quindi 30 banchieri se sei il 31esimo non ti fanno entrare pensa quanto sono oligarchi questo al 1970 non solo da una parte si siedono e decidono le politiche da consigliare o da provare a imporre ai governi ma c'è qualcuno che si alza da quel tavolo e si va a sedere sulla poltrona di Presidente del Consiglio in Italia perché Mario Draghi che lo vediamo se passiamo all'altra slide che ha firmato questo report lo vediamo due mesi dopo è diventato il Presidente del Consiglio che dovrà attuare queste linee guida decise da 30 banchieri spietati che in questo report parlano di aziende zombie quelle che noi e ti assicuro Vito in questo momento a Napoli nella mia città c'è il gruppo ORECA c'è tutti gli imprenditori del settore hotel ristoranti bar catering sono seduti tutti fuori la sede della regione Campania disperati perché quelle che sono le loro aziende di famiglia le tradizioni le aziende dei padri di famiglia di persone che vivono di quello questi li chiamano aziende zombie cioè aziende che sono destinate a morire e quindi se guardiamo la prossima slide scrivono che bisogna indurre il fallimento di queste aziende accompagnarle verso il fallimento guardate ridurre il supporto alle aziende e fare delle misure targettizzate soltanto per quelle che sono viable cioè quelle che sono percorribili nel post-covid quindi solo quelle che loro ritengono strategiche per il resto guardate limitare il supporto ai governi alle aziende quelle che potrebbero fallire quindi le chiamano aziende zombie ma non ci dicono che queste aziende non sono nate zombie sono state le politiche dei governi a ridurre tali i ristoranti i bar gli hotel non erano zombie le politiche folli di questa emergenza sanitaria le hanno ridotte tale ora che cosa ci dicono 30 banchieri che cosa dicono andiamo a consigliare ai governi di non supportare queste aziende di lasciarle fallire perché altrimenti creano problemi di insolvenza e vanno a creare problemi al settore finanziario che loro rappresentano ma la cosa assurda è che questi personaggi si alzano dal tavolo del gruppo dei 30 e ce li troviamo seduti sulla poltrona della presidenza del Consiglio in Italia cioè loro avrebbero dovuto consigliare provare a indurre il Presidente del Consiglio ad accettare queste cose inaccettabili e invece in Italia ci troviamo chi ha redatto questo report seduto sulla poltrona della presidenza del Consiglio e secondo voi adesso queste linee guida scritte da lui stesso le porterà avanti ai danni delle piccole e medie imprese italiane oppure dirà no sono una follia perché adesso sono il Presidente del Consiglio e non rappresento più gli interessi dei banchieri essendo rimasto nel gruppo dei 30 dove ripeto ci sono 30 banchieri la maggior parte dei quali sono stati incriminati per quello che hanno fatto perché la GP Morgan Chase è stata incriminata per la questione dei mutui subprime e questa per me è una cosa inaccettabile guardate questo report guardate che cosa scrivono allowing some business to fail è questa questa è la domanda che loro si pongono dicono quali compagnie assistere e perché c'è 30 banchieri devono decidere quali aziende possono essere aiutate e quali no e sai che cosa rispondo in questo report dicono sapete chi deve scegliere quali compagnie devono essere i privati devono essere i banchieri perché hanno più esperienza i banchieri per capire quale azienda potrà andare avanti e quale no ma non lo dicono che ci sono aziende che non possono andare avanti è perché loro le hanno ridotte a zombie io ti ringrazio perché questa è l'unica sede televisiva dove noi possiamo mostrare questo report che non è uscita in nessuna tv italiana quindi questo diciamo è anche un'esclusiva per tutti quanti assolutamente ne ha parlato tanto Radio Radio il grande professor Malvezzi ma in tv non lo vedremo mai perché lì è scritto il programma che vogliono attuare in Italia rapidamente perché vogliono sentire anche che vogliono sentire anche a che prognia che vogliono sentire anche che vogliono sentire anche